Durante l'adegenza dei vostri neonati, eseguiremo degli screening con l'obiettivo di cogliere precocemente alcune patologie molto rare, ma che non dobbiamo dimenticare. Il primo di cui voglio parlarvi è il cosiddetto screening delle malattie metaboliche, che viene fatto a circa due giorni di vita, mediante un prelievo di poche gocce di sangue. L'obiettivo è quello di cogliere dei difetti del metabolismo di zuccheri, grassi e proteine ed altre patologie, come ad esempio l'ipotiroidismo e la fibrosicistica. Il secondo screening è quello che viene fatto mediante le otto emissioni, che ci permette di escludere l'ipocosie e le sordità congenite. Il terzo è costituito dalla ricerca del cosiddetto riflesso rosso, che ci permette di escludere alcune patologie oculari, come la cataratta congenita. Grazie. 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 Grazie.